da sono veramente arrabbiato scusami se parlo con la bocca piena ma una volta tanto si tratta proprio di necessità perché ho un mal di gola tremendo non riesco quasi a parlare e ho in bocca una caramella alpino che spero allenisca un pochino la situazione ma veniamo a noi perché in questo momento sono veramente furioso ti è mai capitato di esserlo beh eccomi qua quando lo sono io e sono furioso perché non mi sono accorto di una cosa importantissima che ha avuto delle ricadute anche su dei membri proprio di questa community ma andiamo con ordine facciamo un passo indietro e ti spiego ben benino di che cosa si tratta e quindi se ti senti pronto iniziamo non ho mai avuto tanta fretta di andare avanti come oggi ma siccome ho già commesso un errore imperdonabile non voglio commetterne un altro e quindi facciamo le cose per bene e con ordine e procediamo senza meno con il nostro rituale apotropaico che serve a blandire le ire delle potenzialmente funeste divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ebbene sì non sai quanto mi costa ammetterlo ma questa volta la figura dello zio bill l'ho fatta proprio io in persona quello che è giusto è giusto ma facciamo un passo indietro per capire meglio se ben ricordi nel video di ieri ti ho presentato un software che si chiama neptimizer se te lo fossi perso ti riassumo in due parole di che cosa si tratta quando vado a casa di un cliente devo fare una ottimizzazione seria della sua rete vado a toccare una serie di parametri nascosti che normalmente non sono neanche compresi in windows andando ad ottimizzarli questo mi fa perdere un sacco di tempo con il programma neptimizer ho voluto automatizzare tutte quante queste operazioni in modo da farle semplicemente con due clic e soprattutto da dare anche a te la possibilità di usufruirne tuttavia ho sottovalutato una cosa molto ma molto importante ovvero che quando effettuo queste ottimizzazioni successivamente io vado a fare una serie di test per verificare che queste siano andate a buon fine ebbene mi sono dimenticato di implementare questa cosa nel programma e questo ha causato un piccolo patatrack ebbene sì nonostante che io abbia testato l'applicazione da cima a fondo prima di presentartela non ho considerato una casistica così vasta come quella che offre questo canale e quello che è successo è che in alcuni casi laddove si siano incontrate delle combinazioni spavorevoli tra scheda di rete e impostazioni del router le macchine siano rimaste completamente disconnesse da internet naturalmente in questi casi nessuna paura perché come avevo già scritto sia nella descrizione del video sia nel commento in evidenza bastava semplicemente fare un ripristino di sistema ma attenzione non il ripristino che ho implementato all'interno dell'applicazione stessa ma un vero e proprio ripristino di sistema e se per caso non sai come fare non ti preoccupare ti lascio linkato qui in alto il video in cui viene spiegata la procedura per filo e per segno quindi niente paura recuperiamo subito anche la tua macchina ma c'è dell'altro da dire per una volta ti risparmio tutta la tarantella per arrivare sul sito che se vuoi potrai trovare nel video originale che ti lascio qui in alto ma ti mostro subito le differenze rispetto a prima innanzitutto la nuova app si chiama neptimizer 1357 che è il numero preciso della versione che di solito non inserisco ma che ho inserito in questo caso per distinguerla dalla precedente se facciamo clic sul pulsante file download troveremo il file scaricato qui e dovrai fare caso al fatto che si chiama setup neptimizer 2 questo lo distingue per non fare confusione dal file precedente se lo andremo ad aprire chiuderemo l'altra pagina che non ci serve più come dico sempre e andremo ad effettuare l'installazione di neptimizer al termine dell'installazione che ti mostro anche questa nel video precedente andremo a vedere che questa volta anche applicando tutte quante le varie impostazioni l'applicazione non ci creerà assolutamente nessun problema andiamo a selezionarle tutte ad applicarle qui abbiamo il nostro feedback di tutto quello che è stato modificato sul nostro computer ma facendo esci e riavviando il nostro sistema potremo vedere che al termine del riavvio la linea internet sarà funzionante esattamente come era prima anzi no meglio perché avremo modificato queste impostazioni della nostra scheda di rete che servono per l'appunto a velocizzarlo e vado a dimostrarlo come direbbe qualcuno apriamo nuovamente il nostro browser alla velocità della luce effettuiamo una ricerca del nostro sito ci portiamo sulla pagina downloads e come puoi vedere la velocità è davvero impressionante ebbene sì per una volta sto lavorando da una macchina fisica e non da una macchina virtuale e questo solo per te per farti vedere come funziona realmente neptimizer ma non ti ci abituare perché odio lavorare dalle macchine fisiche perché ogni volta dovrei stare a riformattare ma passiamo ad un altro argomento che mi è stato fatto notare più e più e più e più e più e più volte sulla community ovvero il fatto che ogni tanto quando qualcuno scarica una app windows defender individua questa app come infetta ben inteso windows defender è un ottimo antivirus e non fa altro che il suo lavoro ma attenzione tende ad individuare come infette praticamente tutte le app che non conosce o meglio le app che non sono firmate digitalmente e acquistare una firma digitale per una app ha un costo non irrilevante capisce a me allora come facciamo per verificare se una app è effettivamente infetta o meno ebbene quello che ti consiglio sono due cose la prima è di utilizzare sempre il cervello e fare questi test cum grano salis come si suol dire e la seconda è di utilizzare virus total anche di questo abbiamo parlato in passato ma voglio mostrarti un attimo come funziona se andiamo ad aprire la pagina di virus total e andiamo ad aprire proprio la nostra app che abbiamo appena scaricato setup nettimizer eccetera eccetera la sottoponiamo a virus total e virus total che invece ormai la conosce perché gliel'avete mandata in centomila ti dice che l'app assolutamente non è minimamente infetta quindi per favore prima di scrivermi nei commenti che un'app è potenzialmente infetta effettua almeno qualche verifica va bene ma adesso che ti ho spiegato per filo e per segno i termini del problema è rimasta una cosa importantissima da fare quale chiedere scusa ufficialmente e con tutto il cuore a tutti quei membri della community che hanno avuto qualche difficoltà a causa della mia disattenzione mi dispiace moltissimo purtroppo non sono assolutamente infallibile anzi tutt'altro di errori ne commetto a gogo ma prometto solennemente di essere estremamente più cauto ed estremamente più accorto in futuro stai tranquillo che un errore del genere per quanto è umanamente possibile non si ripeterà ma andiamo avanti perché abbiamo un importantissimo ringraziamento da fare ma quale quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima